Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Il giorno di Pasqua all'insegna del freddo e del vento su gran parte del centro e del sud. In arrivo infatti una massa d'aria molto fredda dal nord-est dell'Europa, dalla Scandinavia, che farà precipitare la colonina di Mercurio su quasi tutta Italia e porterà soprattutto venti forti che poi persisteranno anche nel giorno di Pasquetta. Leggermente meglio solo al nord, dove avremo cieli sereni e venti nettamente più deboli. In Abruzzo sarà una Pasqua decisamente più instabile, perturbata, caratterizzata dal forte vento di grecale. A tratti burrascoso, con raffiche oltre i 60 e i 70 km orari, il vento forte acutizzerà la sensazione del freddo. Le temperature saranno comunque molto basse, massime non oltre i 10 o gli 11 gradi sulle coste, quindi temperature praticamente da pieno, inverno, minime tra i 2 e gli 8 gradi. I cieli saranno nuvolosi per gran parte della giornata, con pochi sprazzi di sole e anche avremo qualche fiocco di neve in appellino oltre gli 800-900 metri di quota. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi l'augurio di una buona Pasqua. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni